Con la pubblicazione dei risultati delle prove invalsi di quest'anno si è riaperto il dibattito sul tema delle classi pollaio, tema quanto mai attuale proprio in vista della ormai prossima riapertura dell'anno scolastico. Da più parti, infatti, si sostiene che il problema principale da affrontare a settembre non sarà quello delle vaccinazioni ma quello degli spazi e del numero di alunni per classe. Il problema, peraltro, è stato sollevato anche dal sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso durante l'appuntamento della tecnica della scuola live che vi invitiamo a rivedere sul nostro canale YouTube. E di docenti in più parla anche la ex ministra dell'istruzione Lucia Azzolina che sui propri canali social ha dichiarato. Avere più personale scolastico significa poter ridurre il numero di alunni per classe e quindi garantire meglio il distanziamento. L'anno scorso per la riapertura di settembre abbiamo investito quasi 2 miliardi di euro per avere 70.000 persone in più tra docenti e ATA. Quest'anno sono stati tagliati perché un tema, quello delle classi pollaio, sul quale è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi che durante un incontro firmato Repubblica ha risposto in modo piccato ad uno spettatore che lo incalzava dal pubblico e ha detto lui non sono Harry Potter. Precisando è vero abbiamo classi numerose ma abbiamo anche il problema opposto nei paesini di montagna ci sono classi con un paio di alunni, stiamo lavorando per permettere di organizzare classi con meno alunni, lo facciamo con gli uffici scolastici regionali, in 5 mesi abbiamo avuto problemi accumulati in 30 anni. Sugli effetti delle classi numerose rispetto agli esiti di apprendimento il dibattito è molto vivace. Dal rapporto invalsi e ancor più dalla relazione svolta in Parlamento da Roberto Ricci responsabile delle rilevazioni emerge che non c'è al momento nessuna evidenza scientifica che i risultati siano strettamente correlati con il numero di alunni per classe. La variabile che più di tutte incide sui risultati continua ad essere secondo i ricercatori dell'invalsi il contesto socio-culturale di provenienza degli studenti. Non a caso infatti nei licei che tradizionalmente accolgono ragazzi provenienti da famiglie con maggiori possibilità non si segnalano particolari differenze nei risultati fra alunni e alunni per alunni di classi numerose e alunni di classi più ridotte. Differenze che si osservano invece nei tecnici e nei professionali frequentati da studenti più fragili. Ma osserva per esempio Paolo Fasce, dirigente scolastico a Genova, esperto di disabilità, inclusione e di valutazione di sistema, non va trascurato il fatto che la percentuale di studenti disabili sfiora il 10% negli istituti professionali che hanno classi mediamente più piccole, tre studenti in media di meno. Senza dimenticare, aggiunge ancora Fasce, gli studi dell'Ocse Pisa che non sono del tutto incoraggianti in merito alla efficacia didattica nelle classi con basso numero di studenti e che mostrano modi migliori, dice Fasce, di spendere i soldi se si ha a cuore il successo formativo degli studenti. Considerazione perfettamente in linea con la relazione di Roberto Ricci in Parlamento. Le esperienze migliori del Nord Europa, sottolinea Roberto Ricci, ci mostrano che è fondamentale per gli studenti fragili avere docenti aggiuntivi e attività aggiuntive. Una strategia fondamentale sarebbe quindi, anziché avere classi più piccole, avere risorse e avere docenti in più per aiutare gli studenti in difficoltà, soprattutto nell'ambito della istruzione tecnica e professionale. Bene, con questa puntata di oggi chiudiamo l'annata 2020-2021, ci rivedremo a fine agosto o a inizi di settembre, quindi vi auguriamo una buona fase, un buon periodo di riposo. In ogni caso il nostro portale continua ad essere attivo, quindi continuate a seguirci su www.tecnicadellascuola.it e ovviamente arrivederci anche sul nostro canale YouTube a partire dalle prossime settimane. Grazie. 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 Grazie.